Il mondo è pieno di problemi gravissimi, quello in corso in Francia, ma anche e soprattutto la guerra in corso alle porte dell'Europa dopo l'invasione russa in Ucraina, iniziata ormai quasi 18 mesi fa. È recito sperare che la pace prima o poi si possa realizzare e bisogna pregare perché questo avvenga, anche sostenendo le iniziative della diplomazia della Santa Sede, le iniziative del Santo Padre, avendo però l'accortezza di non dimenticare che la pace senza giustizia non è pace e che ogni iniziativa diplomatica non può mai portare alla giustificazione dell'aggressione e a consolidare una situazione di ingiustizia. Ecco, quello slogan di tanti anni fa, meglio rossi che morti, è uno slogan che non vorremmo più sentire ripetere, neppure nella versione nazionalista invece che comunista. Tuttavia c'è una malattia da cui l'Occidente non potrebbe liberarsi velocemente anche se improvvisamente accadesse il miracolo della pace, o più realisticamente di una tregua d'armo. E questa malattia è il suicidio demografico, che continua in modo particolare in Italia senza nessuna inversione di rotta all'orizzonte. Allora bisogna interrogarsi sulle origini di questa malattia, che riguarda la cultura dei nostri contemporanei, cioè le scelte esistenziali più importanti da parte dei giovani che oggi hanno dai 25 ai 40 anni l'età in cui ragionevolmente ci si decide per il matrimonio o comunque per mettere al mondo un figlio. I motivi per cui non si fa questa scelta non sono prevalentemente economici. Intendiamoci, questo per non creare equivoci, ogni aiuto economico da parte delle istituzioni pubbliche, lo Stato, le regioni, i comuni, ogni aiuto economico a quei genitori che mettono al mondo un figlio va incoraggiato, va apprezzato pubblicamente, perché in una certa misura aiuta a superare la crisi, come dimostrano le province autonome di Trento e di Bolzano, dove la percentuale di nascite per donna è migliorata anche grazie a politiche sulla natalità intelligenti e generose. Ed è importante questo aiuto anche solo per il fatto che il dramma dell'inverno demografico viene così ricordato da parte dei governi, come fa meritoriamente quello italiano e questo costringe le persone quantomeno a riflettere. Tuttavia è bene ricordare che il problema principale è su un altro piano, quello culturale, cioè quello per cui i due giovani decidono di decidere di dare la vita, cioè di uscire da loro stessi, dal loro egoismo per trasmettere la vita. Ha colto molto bene questo punto la storica Lucetta Scarafia su un quotidiano, La Stampa, il 29 giugno, un quotidiano che peraltro ha contribuito con la sua storia laicistissima a generare una mentalità antinatalista. Infatti Scarafia comincia ricordando che chi parla a favore delle nascite oggi deve subire il sospetto di essere considerato un fascista o come minimo un super cattolico conservatore, perché esiste tutta una cultura oggi dominante, il cosiddetto pensiero unico, il politicamente corretto, che si adopera a proteggere la vita delle minoranze, LG, B, T, Q etc. Si adopera per difendere le specie animali in via di estinzione, si adopera per denunciare il sacrosanto diritto della creazione di essere rispettata e non manipolata, ma poco o niente dice questa cultura dominante per ricordare che un paese senza figli è un paese che sta morendo e come dice Lucetta Scarafia con le culle vuote non può esserci ripresa economica. La storica Scarafia ricorda gli intellettuali del Club di Roma, i più vecchi se li ricorderanno, gli anni 60 del secolo scorso, quando venne lanciato il libro di Paul Ehrlich, The Population Bomb, la bomba della popolazione. Un libro che in pochi anni riuscì a far credere che la crescita demografica fosse come un cancro che non solo avrebbe ridotto in povertà i paesi ricchi, ma avrebbe distrutto l'intero pianeta. Chi c'era in quegli anni si ricorda come nel giro di pochissimi anni cambiò la mentalità proprio a proposito della natalità. L'anno di svolta, dicono gli statistici, fu appunto il 1964, quando cominciò a declinare il trend demografico nel nostro paese e continuò così inesorabilmente. Questo atteggiamento di fronte alla vita è così dilagato per oltre mezzo secolo e ha convinto due generazioni. Sarà cosa lunga e difficile cambiare mentalità e come tutte le conversioni all'inizio sarà una conversione dolorosa. Lucetta Scarafia lo ricorda molto lucidamente e scrive è molto difficile cambiare una tendenza così radicata nell'ultimo mezzo secolo e così sostenuta dai media come via maestra per la felicità. E tuttavia è l'unica strada che può impedire veramente la morte della patria, per usare un'espressione che non è semplicemente un eufemismo. Ed è l'unica via che può restituire la felicità a quella vera, non quella che ci hanno lasciato credere. La felicità che proviene quando si ha il coraggio di seguire la strada della vita. C'è un ultimo aspetto ricordato dall'articolo di Lucetta Scarafia ed è un aspetto su cui è importante riflettere. Nessuno chiede scusa, scrive Scarafia, per l'abbaglio preso in passato. Nessuno che avanzi il sospetto che il progresso ha anche una faccia negativa, forse persino distruttiva. È vero, ogni conversione prevede un'accusa dei propri errori, perché sia una conversione efficace e aiuti ad aprire gli occhi a chi sta guardando. È veramente strano che oggi, diventati una società di vecchi e davanti al rischio che le pensioni degli anziani potrebbero un domani, un domani non troppo lontano, non essere più pagate per mancanza di giovani, molti oggi comincino a svegliarsi dal sogno progressista post 1968, senza peraltro mettere in discussione quel modello culturale che ha portato alla catastrofe. Non sarebbe soltanto giusto, ma necessario per invertire veramente la rotta verso una società più umana, più felice e più feconda. Buona settimana a tutti. Grazie a tutti.